E' vero, sono anni che cerchiamo di sensibilizzare le donne e le chiese, perché noi siamo donne evangeliche e lavoriamo in quell'ambito e non solo su queste tematiche che troppo spesso vengono o restano nascoste anche nei nostri ambiti. Avvaliamo della collaborazione dell'ospedale internazionale evangelico di Genova che già ha sperimentato questo tipo di progetto e quindi di sensibilizzazione, ci avvaliamo di loro perché sono esperte, esperti e quindi per noi è sicuramente un passo un pochino più facile, un percorso un pochino più facile. L'ospedale evangelico internazionale di Genova è da anni impegnato a favore delle donne a contrastare il fenomeno della violenza che è così diffuso e che purtroppo ogni anno registra numeri sempre maggiori di donne non solo vittime di violenza fisica ma anche di violenza psicologica. Questa collaborazione rientra nell'impegno che da anni l'ospedale porta avanti per le donne vittime di violenza con il progetto finanziato dall'otto per mille delle chiese valdesi metodiste contro la violenza sulle donne dando la possibilità di accompagnamento, ascolto e ovviamente accoglienza alle donne che si recano all'ospedale. Nel convegno del 29 e 30 novembre metteremo a disposizione tutti i professionisti della sanità che in un modo o nell'altro si interfacciano con le donne vittime di violenza. Ci saranno le psicologhe di Finestra Rosa, ci saranno anche le psicologhe di a piccoli passi un altro progetto finanziato dall'otto per mille a sostegno della genitorialità fragile ci saranno anche le ginecologhe che si occupano di accogliere le donne vittime di violenza e ci sarà anche il centro di riferimento metropolitano di antiviolenza quindi ci saranno tutti i professionisti che in varie misure e in volte con tempistiche diverse aiutano le donne ad aprirsi e poi a cominciare la loro strada verso la salvezza. È un convegno aperto a tutte e anche a tutti quindi ci auguriamo che ci sia anche una buona partecipazione perché per combattere la violenza bisogna sapere di cosa si sta parlando bisogna capire e avere degli strumenti validi. Saranno due giorni importanti anche per capire cosa è stato fatto e cosa c'è da fare e cosa si può fare ancora. Questa è una campagna di sensibilizzazione su temi riguardanti la violenza e noi vogliamo manifestare, dimostrare tutto il nostro disappunto anche con l'abbigliamento un abbigliamento in nero tutti i giovedì e ovviamente non sarà la soluzione a risolvere il problema ma è un passo perché se tutte noi riusciamo ad essere sensibili su questo tema e anche a dimostrare, a mostrare agli altri il nostro pensiero forse qualcosa incomincia a cambiare nelle coscienze di molti.